La competizione è vero che produce un incremento di valore, non c'è dubbio, attenzione, è parziale. Guardate lo sport, appena si comincia a creare competizione il livello pian pianino sale. Nell'alpinismo da quando si è cominciato a creare la competizione veramente forte si è passati a livelli di aeropicata inarrivabili prima. Allora andate a vedere la vita che fa uno che si dedica all'alpinismo estremo, fa solo quello. Quindi la competizione fa migliorare in un settore, in un frangente, al prezzo di cosa? Di tutto il resto. Quindi quando noi parliamo di competizione, quando va bene, ci migliora in un settore a scapito facilmente di tutti gli altri. Capite? Allora lì la competizione non è migliorativa, è migliorativa nel parziale, quindi siamo sempre a livello della parzialità. Quindi cominciamo a vedere queste cose.